Invece di dire che è bene, ma io ho 64 anni Eh, pensa a voi Pensa a tu, io Oggi ho fatto il pane con l'uvetta e le noce ti è piaciuto, eh? Gozzone che non c'è altro Eh? E' andata ferma con le mani Eh? Perché c'ha detto? Che ne va da più a moglie quello? Ne va da più a moglie, invece le ripila po', che c'è sta bene Vieni la, vieni la, che te ne accorgi Ascolta, bello, oh, parlo con te Ma da quant'è che fanno le bistecche di prosciutto? Eh? Ma tu le bistecche di cazzo e tu le guane di ferro Maaa! Dietetico? E' dietetico Si, il torcolo dietetico? Si Che c'hai messo? Ho messo le noci e le miele E l'acqua E l'olio d'oliva E lo zucchero di carne Vabbè Dietetico L'ho mangiato prima Si Ma chi la mangia? Ma chi la mangia? Ma chi la mangia? A me non mi piace quello che sta L'hai mangiato tutto tu? Che ti ha mangiato tu? Sì C'è da chi piace Sto preoccupati Ma da chi? Ma da chi? Ma che hanno festinato lì Anche Stefanino Le mangiate Ma se ne ha mangiato tante prima di là Ma che è quel cane? Che è quel cane? E' lo stronzo come i padroni Come? E' lo stronzo come i padroni E poi anche? Ma Ma No E' il compleanno di Iron Man Oh E' il compleanno di Iron Man Fagli gli auguri Oh Aguri Iron Man Ahimeno Iron Man Oh che sciacca dico io Ma è il compleanno di Iron Man Fagli gli augurini Ceppia ora